Ciao a tutti e bentornati su IndieGameplay Ita. Oggi una nuova rubrica, un nuovo format edizione straordinaria, dove io andrò a farvi un video flash con informazioni urgenti riguardo magari uscite di giochi e eventuali traduzioni. Allora, intanto vorrei mettere la mano avanti e dirvi che continuerà la rubrica di Non vedo l'ora, con i giochi in uscita per cui io Non vedo l'ora per l'appunto, e doveva essere programmato per oggi, uscirà invece sabato, domani video regolare. Quello che voglio mostrarvi oggi è questo. Vi ricordate, meno di un anno fa, più o meno ottobre, avevo pubblicato questo video di Deliver Us The Moon, me l'avevate comunque commentato, avevate fatto un numero buono di visualizzazioni. Il gioco era ambientato, diciamo, su questo shuttle, insomma, che viaggiava verso la luna per sistemare questa stazione lunare che forniva energia e materiali alla Terra, perché la Terra era messa, diciamo, male. Ecco, l'edizione straordinaria sta appunto qui, perché oggi, 10 ottobre, guardate un po' che cosa succede. Ebbè, gioco è uscito ufficialmente, lascia l'early access, ed è completamente in italiano. Quindi, finalmente, chi di voi aveva visto il video e il gioco lo ispirava, ecco, sappiate che il gioco ora è completamente in italiano. Vedete, adesso possiamo andare a saltare la schermata, vedete, il menu resta pressoché lo stesso, però abbiamo la possibilità. Vediamo se adesso mi ricarica la vecchia partita che avevo avviato un anno fa, perché ovviamente, avendo i salvataggi in cloud, dovrebbe avermi tenuto tutto. Hanno fatto un aggiornamento il 9 ottobre di sera, hanno fatto 7 giga e mezzo, che ho scaricato. E riprendiamo dove l'avevamo lasciato, anzi, mi sa che non l'ha tenuto, però, insomma, tutto sottotitolato. Vedete, possiamo andare anche a selezionare il livello. E per chi fosse, diciamo, curioso di sapere la durata dell'avventura, la durata dell'avventura ho guardato, poi adesso me lo voglio godere pian piano. Però, a detta degli sviluppatori, è diversa da persona a persona. Si parla di 3-5 ore, per chi magari sa già cosa fare, fino ad arrivare a 5-8 ore, quindi meno di 10 fondamentalmente, per chi invece magari si perde via. E comunque, chi dovesse averlo già giocato, sappia che l'introduzione, diciamo, di questo nuovo aggiornamento, quindi a parte la lingua, aggiunge diversi nuovi puzzle, chiamiamoli così, insomma, dove dobbiamo andare a risolvere i vari problemi. Allora, vediamo che con esamina, sì, diciamo che la lettura, ecco, come in tutti i giochi, in cui comunque non c'è stata possibilità di tradurre anche i testi, diciamo, sulla carta, insomma, su questo foglietto, premendo il tasto R possiamo andare a leggere. Mi sembra anche tradotto piuttosto bene, quindi, ecco, insomma, questa è l'edizione straordinaria di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, beh, in primis del gioco, di questa nuova, di questa sorpresa, e soprattutto di questa rubrica Ultra Flash. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!